Carissimi amici, vi invito anche quest'anno a vivere con me la novena del Natale accompagnati ad alcuni brani musicali ogni giorno. Oggi, primo giorno della novena, iniziamo con un brano che non è propriamente della musica classica, ma fa parte del repertorio gregoriano, di quel repertorio che da più di mille anni accompagna la liturgia e la vita della Chiesa. È la prima delle antifone, chiamate antifone O, che accompagnano questi giorni. L'Avvento è un grido nella notte che continua a ripetere, vieni Signore Gesù, vieni e non tardare. E nell'antifona di oggi sentiremo, vieni o sapienza, vieni tu che sei il verbo, incarnati, vieni in mezzo a noi. Ho deciso di abbinare e completare il canto dell'antifona gregoriana con una sua rielaborazione contemporanea per coro. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. grazie a tutti Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Vesore altissimi prodisti, atingesat, atvenemusque atvinem, o sapientia, o sapientia. Forti tessui, guardi a te pedis, come somnia, forti tessumane, te pedis, come somnia, guardi a te sur, guardi a te pedis, come somnia, o sapientia. O sapientia, o sapientia, quel Vesore altissimi prodisti, atingesat, 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 atinges Grazie a tutti. Grazie a tutti.